Grazie a tutti. Il maggior successo della radiofonia complessiva, Radio Zorro era una trasmissione civica su tutto quello che non funzionava e non si dettero per intesi, non ne fra con nulla, nel 1996 la chiusero dopo anni di successi anche sul piano dell'audiradio, e la chiusero, la chiusero la sinistra, c'era Enzo Siciliano alla presidenza della RAI, quindi la dimostrazione a me mi ha chiuso indifferentemente destra, sinistra, sopra e sotto, modestamente. Da questo punto di vista ho utilizzato il criterio da par condicio censoria fino in fondo, nei miei confronti però, e Andreotti mi mandò questo biglietto privato dicendo che se mi dava la solidarietà Andreotti, avrebbero tutti pensato ma come mai, che strano, è che in quel periodo Andreotti era in disgrazia. Non capisco come Bea possa pensare di lavorare ancora in tv o alla radio o a un giornale medio grande se continua a scrivere libri come questi. Marco Travaglio, prefazione a Diario di uno spaventapasseri. Cosa successe? Diario di uno spaventapasseri è un libro di ormai di una decina di anni fa, dedicato a Paolo Silo Slabini, un italiano straordinario di cui si sente la mancanza, che era morto nel 2005, e Travaglio scrisse questa prefazione elogiativa, soltanto che è vero, aveva ragione di non capirlo, il problema è che poi quello che non potevo fare io ha fatto lui. Grazie